Studio su Elettra, saggio degli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Il saggio di diploma degli allievi del terzo anno dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico si intitolerà Studio su Elettra. Diretto da Mauro Avogadro, il lavoro andrà in scena nel cortico dell'ex convento di San Francesco, sede della scuola di teatro dell'Inda, da sabato 23, giovedì 28 marzo, sempre con inizio alle 16. Mauro Avogadro, l'attore e regista fra i protagonisti storici delle rappresentazioni classiche del teatro greco di Siracusa, ne ha curato la regia e l'allestimento. I temi delle lettere di Sofoghe ed Euripide, spiega il maestro, così come quelli delle coefore di Eschelo, condividono essenzialmente un tratto comune, il trionfo della giustizia per mano dei figli vendicatori, Oreste ed Elettra. Il retaggio del mito greco si mescola con le atrocità dei tempi di guerra, fondendo la tragedia degli atridi con le sofferenze universali dell'umanità. In scena si altereranno diversi cast, con Elettra interpretata da Caterina Alinari, Alice Pennino ed Elisa Zucchetti, Tritennestre da Sara De Laurentiis ed Enrica Graziano, regista da Ferdinando Ieba e Francesco Ruggero, Oreste da Carlo Alberto De Noie e Matteo Nigi, Pilate ed Andrea Bassoli, Alberto Carboni, Teodoro da Moreno e Pio Mondi. A curare l'allestimento dello spazio scenico sono stati gli studenti dell'Università degli Studi di Catania, struttura didattica speciale dell'architettura e patrimonio culturale, guidati dai tutor didattici, il professor Vittorio Fiore e la professoressa Francesca Castagneto. In progetto hanno partecipato Anna Bellia, Beatrice Salemi, Costanza Scarcipino, Pattarello, Daniela Liotta, Federica Ursino, Giada Crementi, Ushmand, Toluian, Chetti e Liano, Leonardo Migliore, Milena Ayala, Paola Barbagallo e Tatiana Barbagallo. Le scene e i costume sono state realizzate dal laboratorio di scenografia e dalla Sartoria dell'Inda. L'ingresso al saggio è libero fino a esaurimento posti.